Benvenuti su MyQuizTime! Trova l'emoji diversa in soli 7 secondi. Qual è l'emoji differente? Trova l'intruso. Qual è l'emoji differente? Trova l'intruso. Qual è l'emoji differente? Trova l'intruso. Qual è l'emoji differente? Scrivi nei commenti quante emoji diversi hai trovato, e se il video ti è piaciuto faccelo sapere con un like. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi giochi. Grazie per aver giocato con noi. Alla prossima sfida!